di organizzazione che abbiamo, ovviamente ringrazio tutti i giornalisti che ci stanno seguendo sia qui che in streaming. Noi abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa chiaramente per raccontare il grande lavoro che Fratelli d'Italia ha fatto in vista della discussione parlamentare sul decreto rilancio. Ovviamente voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno lavorato, due sono dietro questo tavolo, Francesco Lollobrigi, al nostro presidente dei deputati, ma vedo in sala anche Luca Ciriani, il nostro presidente dei senatori, i nostri componenti in commissione bilancio, Nicola Calandrini al Senato, Paolo Trancasini, capigruppo per la Camera dei Deputati, il nostro responsabile del programma al senatore Fazzolari e Maurizio Leo che da un pochino ormai è il nostro responsabile per le materie legate al fisco e presta la sua straordinaria professionalità per darci una mano e ovviamente tutti i nostri parlamentari hanno fatto un lavoro molto importante. Penso che sia particolarmente rilevante parlarne in queste ore perché ovviamente la commissione bilancio sta qui alla Camera cominciando a lavorare e contestualmente abbiamo un governo che sta convocando una specie di Stati Generali dell'economia ma a noi diciamo piacciono poco le passerelle e piacciono molto i fatti e i fatti sono che a casa nostra gli Stati Generali sono il Parlamento della Repubblica e se il Parlamento della Repubblica sta discutendo di come spendere 55 miliardi di euro che il Parlamento della Repubblica ha all'unanimità ha messo a disposizione il governo dopo aver messo a disposizione sempre all'unanimità altri 25 miliardi di euro per il decreto cura Italia per un totale di 80 miliardi di euro se qualcuno davvero volesse dire che vuole confrontarsi su come diciamo governare il futuro dell'Italia bisognerebbe partire da come si spendono questi 80 miliardi di euro perché tutto il resto sono chiacchiere non è normale che mentre il Parlamento in Parlamento sistematicamente si metta la fiducia su tutti i provvedimenti che arrivano e non si consenta minimamente alle opposizioni di poter contribuire con il loro lavoro salvo dire delle cose che almeno per dato statistico ogni tanto devono essere sensate poi alcune ne abbiamo addirittura ritrovate oggi delle nostre proposte nella relazione degli esperti di Colao però insomma tutti i nostri provvedimenti tutte le nostre proposte sono sistematicamente state falcidiate dalla posizione del voto di fiducia e poi si convocano diciamo degli Stati Generali nel quale si vorrebbe sapere che cosa pensa l'opposizione che cosa pensa l'opposizione è scritto nero su bianco negli emendamenti che si discuteranno in commissione e in aula al decreto rilancio e se si vuole discutere con noi noi di questo intendiamo parlare non del prossimo provvedimento non di cosa fare fra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi quando avremo speso 80 miliardi di euro che ci piaccia o no ipotecano diciamo qualche anno di lavoro quindi noi vogliamo discutere di questo il decreto rilancio non ci piace dobbiamo ricordarci che noi non stiamo parlando di una manovra finanziaria noi stiamo parlando di un provvedimento emergenziale che si è reso necessario all'indomani della lockdown e dell'emergenza coronavirus in forza del quale come dicevamo il Parlamento ha autorizzato questi 80 miliardi di scostamenti di bilancio e quello che si doveva fare con questi soldi e che a nostro avviso si deve fare con quei soldi banalmente è aiutare le famiglie e le imprese di questa nazione con un provvedimento snello, immediato, a zero burocrazia che consenta di far arrivare subito quei soldi a chi ne ha bisogno questa era l'unica cosa da fare e questo è quello su cui Fratelli d'Italia ha lavorato con i suoi emendamenti il decreto rilancio invece è tutt'altro il decreto rilancio è un incrocio tra una legge finanziaria e la legge mancia è un provvedimento omnibus nel quale il governo ha pensato evidentemente di poter approfittare dell'emergenza coronavirus per sistemare un po' diciamo così di questioni che stavano a cuore al governo stesso accontentare qualche appetito e amico moltiplicare qualche poltrona aumentare un po' di consulenze distribuire mance e marchette e fare tutte cose che nulla hanno a che fare con una fase di emergenza come quella nella quale ci troviamo lo dicono i numeri del decreto perché non servono 266 articoli per sostenere le imprese e gli autonomi garantire i posti di lavoro e sostenere le famiglie e le persone in difficoltà i 266 articoli si rendono invece necessari per tutto il resto per le poltrone, per le consulenze per le mance, per le marchette, per i bonus inutili e per tutto quello che questo decreto prevede e il fatto che siano 266 articoli per fare tutto il contrario di tutto chiaramente comporta anche tempi assolutamente irragionevoli per l'emergenza nella quale ci troviamo si calcola che servano circa 102 stamattina fino a ieri 96 stamattina 102 decreti attuativi per rendere operative le norme inserite nel decreto rilancio atteso che se non vado errata il governo italiano sia ancora manchevole di quasi 500 decreti attuativi di provvedimenti pergressi voi capite bene quanto queste risposte possano arrivare velocemente con un decreto siffatto cosa si fa con questi 266 articoli noi abbiamo fatto nelle nostre slide spero che ci possano stare dietro dalla regia perché io vado un po' random però ne abbiamo raccontate alcune 100.000 euro di consulenze per il Ministero dell'Economia e Finanza 2.400.000 euro di consulenze per il Ministero dello Sviluppo Economico io ho chiesto in aula a Giuseppe Conte se avesse un'idea di quante attività si possano salvare con 2.400.000 euro perché secondo me se ne possono salvare molte di più di quelle che salveranno i consulenti del Mise la creazione articolo 42 della fondazione di diritto privato Enea Tech consiglio amministrazione poltrone 12 milioni di euro da gestire 50 assunzioni a tempo determinato all'Ice targato di Maio nonostante ci sia tra l'altro una procedura concorsuale in essere 11 milioni in più per l'Expo di Dubai e attenzione 100.000 euro per voli in business class se qualcuno mi può dire che cosa abbia a che fare con il rilancio i voli in business class per l'Expo di Dubai eccetera sono tutti articoli contenuti nel mitico decreto rilancio all'articolo 103 la sanatoria degli immigrati irregolari che ha un costo a regime di 340 milioni l'anno di cui 30 milioni per una rapida regolarizzazione a questo punto potevano mettere 30 milioni anche su una rapida rapido pagamento della cassa integrazione visto che la gente la sta aspettando dal mese di marzo in molti casi ancora non è arrivato e poi concorsi senza prova scritta ai ministeri della giustizia e della salute la sanatoria contabile per invitalia del commissario alcuni i superpoteri alla regione Emilia Romagna per la realizzazione del tecnopolo di Bologna ma solo per quello 20 milioni per una struttura nel settore automotive a Torino istituzione un fondo da 150 milioni per operazioni speculative nel campo del turismo mentre il turismo finisce in ginocchio i famosi 120 milioni per il bonus monopattino ai quali adesso il governo vorrebbe aggiungere ulteriori 70 milioni per un totale di 190 milioni di bonus monopattini sui quali abbiamo già detto tutto quello che avevamo da dire ci sono complessivamente 30 nuovi fondi che vengono istituiti molti dei quali tra l'altro sono doppioni di fondi che già esistono ma duplicarli di fatto consente una maggiore discrezionalità da parte del governo nell'utilizzo di quelle risorse insomma io penso che chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale quel chiunque si renda conto del fatto che questo non è un provvedimento che rilancia l'Italia e noi dopo aver visto il paradosso di un decreto liquidità che non aveva liquidità adesso abbiamo un decreto rilancio che non crea alcun tipo di rilancio l'unica attività l'ho detto e lo ribadisco che viene rilanciata dal decreto rilancio è probabilmente quella degli scafisti che grazie alla sanatoria e al ministro Bellanova chiaramente da domani lavoreranno ancora più di ieri con guadagni ancora più lauti noi abbiamo una visione invece diametralmente opposta e abbiamo lavorato con i nostri emendamenti per disegnare quella visione secondo noi questo decreto doveva fare poche cose in modo efficace e quelle poche cose di fatto dal nostro punto di vista erano principalmente tre filoni il tema della difesa dei posti di lavoro il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi e l'aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà queste sono le tre grandi materie delle quali a nostro avviso avrebbe dovuto occuparsi il decreto rilancio e delle quali si occupano gli emendamenti di Fratelli d'Italia ovviamente al netto degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie che è chiaramente una cosa necessaria però le tre grandi questioni fondamentali erano queste come abbiamo tentato di realizzare queste tre questioni fondamentali le nostre slide da questo punto ci aiutano io vi dirò le cose principali poi mi verrà in aiuto Maurizio Leo che ha elaborato un pacchetto molto complesso e molto serio di provvedimenti da questo punto di vista però sul tema del sostegno della difesa dei posti di lavoro noi abbiamo sostanzialmente immaginato alcuni provvedimenti che dal nostro punto di vista potrebbero fare la differenza punto primo noi abbiamo sostenuto la cassa integrazione ovviamente aiutare gli imprenditori in difficoltà in una fase come questa ad avere diciamo a poter accedere alla cassa integrazione è uno strumento che può aiutare in modo importante però dall'inizio già dal Cura Italia abbiamo fatto notare al governo che se ci si limita esclusivamente a sostenere la cassa integrazione di fatto il messaggio che si dà all'imprenditore è a renditi cioè se l'unica opportunità che io ho in un momento nel quale obiettivamente sono in estrema difficoltà è mettere i dipendenti in cassa integrazione il messaggio che noi diamo è ti conviene mettere i dipendenti in cassa integrazione e poi vediamo invece noi abbiamo un bisogno disperato di far sì che vengano mantenuti i livelli occupazionali dare un segnale agli imprenditori che resistono che lo Stato darà loro una mano per cui la prima delle proposte che abbiamo elaborato in tema di cassa integrazione è un imprenditore che avesse diritto ad accedere alla cassa integrazione che scegliesse di non accedere alla cassa integrazione avrebbe dallo Stato l'equivalente dell'80% di quanto lo Stato costerebbe la cassa integrazione cioè se tu lo puoi fare e non lo fai decidi di andare avanti decidi di rischiare decidi di diciamo stringere i denti rimboccarti le maniche ancora di più noi ti riconosciamo questo sacrificio un messaggio culturale che secondo noi sarebbe stato e sarebbe fondamentale dare dopodiché abbiamo previsto anche che le aziende che hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 25% abbiano un taglio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 12 mesi quindi un importante taglio del cuneo fiscale sul fronte del datore di lavoro che ti consente diciamo di dare anche qui un segnale importante sul sostegno dei posti di lavoro abbiamo previsto su questo abbiamo fatto una battaglia come sapete dall'inizio sul tema dell'obbligo della contrattazione sindacale per l'accesso alla cassa integrazione questo è un governo che ha fatto la guardia bianca della burocrazia la prima cosa che andava fatta soprattutto per velocizzare il pagamento della cassa integrazione noi lo denunciamo proprio all'inizio ai tempi del decreto cura Italia era sospendere l'obbligo di contrattazione sindacale per l'accesso alla cassa integrazione la cosa incredibile è che le nostre proposte furono tutte bocciate a un certo punto nel maxi emendamento quindi nella conversione del decreto cura Italia fu fatto un passo in avanti e fu diciamo sospesa l'obbligo di contrattazione sindacale per la cassa integrazione ordinaria e adesso il decreto rilancio nonostante ci sia un voto parlamentare che aveva tolto l'obbligo di contrattazione sindacale per la cassa integrazione ordinaria reintroduce l'obbligo di contrattazione sindacale per la cassa integrazione ordinaria e ci vengono a parlare di rispetto del Parlamento una cosa che non sta né in cielo né in terra che il Parlamento prende una decisione e il Governo fa un nuovo decreto per reiterare una decisione che è già stata bocciata dal Parlamento io chiedo anche cosa ne pensi il Presidente della Repubblica di questo modus operandi francamente perché a me non sembra una cosa normale in ogni caso siamo tornati a parlare di questo problema di sospendere l'obbligo di contrattazione sindacale per l'accesso alla CIG in ogni caso di far sì che niente debba essere dovuto ai sindacati per le pratiche sulla cassa integrazione abbiamo previsto che un'altra cosa molto importante che la cassa integrazione con un nostro emendamento che la cassa integrazione corrisponda perfettamente con il divieto di licenziamento perché è giusto diciamo così in una fase come questa fare in modo il più possibile che le persone non vengano licenziate ma non è che lo puoi fare sulla pelle degli imprenditori se tu applichi il divieto di licenziamento fino a quando c'è il divieto di licenziamento deve esserci anche il pagamento della cassa integrazione invece per come sono le norme in questo momento il divieto di licenziamento dura due mesi più del pagamento della cassa integrazione e allora le cose non tornano più perché non sono scelte che si possono fare sulla pelle di chi già sta in ginocchio come molti degli imprenditori italiani c'è tutto il tema della flessibilità sul lavoro la sospensione del decreto dignità oggi lo dice Colao e probabilmente ora diventerà un tema serio noi lo abbiamo proposto messo nero su bianco presentato come emendamento sostenuto dall'inizio di questa emergenza perché perché parliamo con gli imprenditori perché questo è il momento in cui lo Stato deve dire a chi resiste ti togliamo tutti i vincoli tu resisti lo Stato ti sarà vicino non ti metteremo i bastoni tra le ruote ti daremo una mano e quindi la sospensione del decreto dignità la reintroduzione dei voucher in tutti i settori produttivi particolarmente il tema della reintroduzione dei voucher in agricoltura che non è stata consentita dal ministro Bellanova per puro furore ideologico furore ideologico che non voleva i voucher e furore ideologico che voleva utilizzare l'agricoltura per consentire una sanatoria indiscriminata degli immigrati clandestini in Italia che nulla hanno a che fare col tema dell'agricoltura e che non risolveranno il problema della raccolta nei campi noi sono tre mesi che facciamo queste proposte e le riportiamo c'è tutta la questione del sostegno alle imprese ai lavoratori autonomi poi qui ripeto io salto intere parti anche rispetto alle slide perché Maurizio sicuramente insomma ci parlerà anche e soprattutto di questo però sospensione degli ISA abolizione del tetto al contante eliminazione del minimo contributivo IMS per gli artigiani e i commercianti una serie di diciamo norme che consentono di respirare ai lavoratori autonomi e alle imprese un po' di sostegno ai professionisti totalmente abbandonati basti ricordare ma ripeto qui ne parlerà Maurizio che le partite IVA che svolgono un'attività professionale vengono escluse dal contributo a fondo perduto previsto per le partite IVA si è capito perché se io faccio la partita IVA artigiana posso avere il contributo a fondo perduto se io faccio una partita IVA individuale e faccio un'attività professionale no e questo è anche questo furore ideologico di una sinistra che pensa che i professionisti debbano essere bastonati perché non sono diciamo conformi a come la sinistra vorrebbe il mondo c'è tutto un pacchetto c'è una proposta sulla quale anche abbiamo lavorato molto che abbiamo confrontato con tutte le principali associazioni imprenditoriali che è il tema dell'unificazione degli anni fiscali 2019-2020 che di fatto consentirebbe una sorta di compensazione tra gli utili del 2019 e le perdite del 2020 e questa è un'altra proposta che mi pare che stia riscuotendo un discreto successo tra le imprese e il mondo degli autonomi e poi c'è un'altra proposta alla quale io tengo molto che è sostanzialmente un meccanismo ulteriore di contributo a fondo perduto per per le imprese che si aggiunge a quello previsto dal governo che è di fatto un contributo di massimo 100.000 euro per chi ha avuto una riduzione del fatturato di almeno il 25% attraverso un meccanismo che consente di trattenere il 50% dell'IVA emessa fino alla soglia prevista per cui fino a 100.000 euro io posso trattenere il 50% dell'IVA che viene emessa ovviamente per arrivare a 100.000 euro devo fatturare sostanzialmente un milione di euro quindi dipende da quanto fatturo ma questo significa che è un meccanismo assolutamente virtuoso perché è un meccanismo che spinge le persone a fatturare che quindi consente anche diciamo di lavorare per l'emersione del sommerso la terza grande questione ma ripeto io non ho detto tutto anche per dare spazio agli altri è quella del sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà noi prevediamo l'introduzione di un assegno di solidarietà di 300 euro a persona aumentato di 250 euro per ogni figlio a carico che duri 12 mesi chiaramente per chi non ha reddito per chi insomma sostanzialmente non ha particolari valori mobiliari o immobiliari che non siano la prima casa che viene finanziato sia con l'abolizione del reddito di cittadinanza sia con le risorse destinate al reddito di emergenza sul reddito di cittadinanza sapete come la pensiamo ma il fatto stesso di mantenere il reddito di cittadinanza e prevedere come fa il decreto rilancio anche un reddito di emergenza che ha un importo totalmente diverso che ha una durata totalmente diversa di fatto significa anche creare una sorta di guerra tra poveri e quindi non ha alcun senso bisogna prevedere un unico strumento che sia di reale ammortizzazione sociale cioè deve essere sensibilmente più basso della media dei salari che è quello che noi contestiamo al reddito di cittadinanza e non può essere di appena due mesi come prevede il reddito di emergenza tra l'altro scusatemi ma il reddito di emergenza fa riferimento all'ISEE ma all'ISEE Maurizio se non vado errato si basa sull'anno precedente quindi diciamo non ha molto a che fare con l'emergenza legata al covid e quindi cose assolutamente prive di senso è giusto in una fase come questo chiaramente per chi è in estrema difficoltà prevedere anche un ammortizzatore sociale ma deve essere un ammortizzatore sociale sensato e soprattutto diciamo così che sia uguale per tutti e che non crei sperequazioni assolutamente incomprensibili queste sono le principali tre questioni ripeto e concludo non ci interessano le passerelle a noi interessa parlare di cose concrete ci interessa parlare di come concretamente si aiutano le famiglie le imprese i professionisti gli autonomi i lavoratori di questa nazione ci pare che il decreto rilancio si occupi di tutto forché di questo ma noi di questo vogliamo parlare tutto il resto francamente per noi non è particolarmente necessario in una fase come questa grazie e do la parola a Maurizio a Maurizio Leo allora grazie presidente come ricordate il nostro presidente questo provvedimento è composto da 110.000 parole io da 40 anni mi occupo di queste tematiche economiche e fiscali è la prima volta nella mia esperienza professionale che vedo questo e gli altri provvedimenti perché questo è un trittico abbiamo il primo provvedimento curitalia liquidità e questo sono una miscellanea di disposizioni tra loro disaggregate con microinterventi senza avere una vision tra l'altro mi piace ricordare quello che oggi ha detto il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese che ha detto è stato questo provvedimento scritto da persone che non hanno una competenza nel settore giuridico sono persone che improvvisate che non hanno saputo razionalizzare il provvedimento già la nostra presidente ha ricordato quali sono le tematiche principali che vengono affrontate negli emendamenti e come è stato detto sono emendamenti che vogliono razionalizzare questo provvedimento e concentrarsi su aspetti che vanno più nella direzione che ci viene richiesta dal mondo delle imprese delle professioni eccetera quindi il primo tema è quello dei lavoratori autonomi come è stato detto c'era un qualcosa che mancava all'appello quello di far applicare la disciplina del fondo perduto ai professionisti e ai cosiddetti lavoratori autonomi che versano i contributi alla gestione separata la cosa che meraviglia è che il governo non conosca neanche le regole comunitarie perché sostanzialmente una raccomandazione dell'Unione Europea del 2003 equipare i professionisti alle imprese quindi non si può prescindere dai professionisti quando si parla di lavoro autonomo e purtroppo il governo queste tematiche non le padroneggia e non le conosce abbiamo a questo aggiunto un'altra disposizione importante che riguarda il comparto dei lavoratori autonomi e dei professionisti quella dell'abbassamento della ritenuta alla fonte che succede oggi se io sono un professionista e ricevo un compenso di mille euro sono assoggettato a una ritenuta alla fonte del 20% però in realtà quel compenso non è il mio reddito perché il mio reddito è dato dalla contrapposizione tra i compensi e i costi supponiamo che io abbia tantissimi costi pensate a un professionista che ha dipendenti e via dicendo quindi subisce una ritenuta del 20% che non è correlata a quella che è l'imposta che deve pagare il danno ulteriore che ha prodotto questo governo è quello di dire dice beh guarda che tu puoi compensare questo credito perché sostanzialmente nel momento in cui applico una maggiore ritenuta e c'ho minore imposta da pagare c'ho un credito lo puoi compensare con la dichiarazione nell'anno successivo quindi a settembre del 2021 noi mettiamo veramente in grossa difficoltà i lavoratori autonomi soprattutto in questo momento che cosa si fa con l'emendamento si dice guarda riduciamo l'aliquota della ritenuta portiamola al 10% e se il lavoratore autonomo si avvale anche di dipendenti la abbassiamo ulteriormente la portiamo al 5% eliminiamo anche quella norma che diciamo fa applicare questo meccanismo solo con la dichiarazione dei redditi e rendiamo più razionale il sistema questo è diciamo un modo di venire concretamente incontro alle difficoltà dei lavoratori autonomi mondo imprese sul mondo imprese noi lavoriamo su due comparti sul comparto dell'IRAP e delle imposte dirette e sul comparto dell'IVA che cosa se voi leggete la norma dell'IRAP è una cosa demenziale perché la norma dell'IRAP praticamente dice per il 2019 non devi pagare il saldo però l'acconto è stato pagato in modo differenziato tra i soggetti ISA e i soggetti non ISA quindi ci troviamo in una situazione che ha anche dei profili di incostituzionalità ma ovviamente noi non contestiamo perché va a vantaggio dei lavoratori autonomi delle imprese eccetera la cosa strana invece è quello che si deve pagare nel 2020 perché hanno creato un meccanismo così complesso per cui non si riesce a capire qual è l'effettivo carico fiscale del 2020 per l'IRAP noi semplifichiamo il meccanismo dicendo guardate che l'IRAP del 2020 non è nient'altro che la mità dell'aliquota IRAP del 2019 in questo modo è molto più semplice per gli acconti per i saldi e tutto quindi ecco che questa è una misura che il governo dovrebbe sicuramente adottare anche perché effettivamente sia i professionisti sia le imprese non sanno come districarsi ma la cosa più bella viene sul discorso della razionalizzazione del rafforzamento patrimoniale delle imprese consentitemi di leggere un passo di questa norma che veramente è la quintessenza della complicazione si dice che alle società di QA1 che soddisfano le condizioni di QA2 è riconosciuta a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto all'ordo delle perdite stesse fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di QA1 e comunque nei limiti periodisti dal QA20 ecco questo è il modo di fare le leggi allora noi che cosa diciamo dobbiamo aiutare le imprese soprattutto le imprese che hanno difficoltà e che hanno fatturati non elevatissimi allora facciamo una cosa utilizziamo uno strumento ho visto che Colau ci ha copiato perché è quello che noi già avevamo messo negli emendamenti abbiamo messo abbiamo già messo negli emendamenti quindi sono dati storici che possono essere rilevati abbiamo detto rafforziamo l'ACE l'ACE è oggi un meccanismo che consente l'impresa che produce utile di non tassare un pezzo di quest'utile se una parte dell'utile va a rafforzare il patrimonio netto dice quindi l'impresa parte di quest'utile non lo tassa rafforza il patrimonio netto e quindi ne ha un vantaggio poi diciamo la persona fisica che porta soldi all'impresa ha diritto a un credito d'imposta quindi usiamo uno strumento che oggi c'è lo rafforziamo Calau parla di ACE rafforzata noi l'abbiamo stimato a un 4,5% del rendimento nazionale chi invece porta soldi nell'impresa la persona fisica che porta soldi nell'impresa ha diritto a un credito d'imposta a questo ci aggiungiamo quello che diceva il nostro presidente vale a dire di aggiungerci di aggiungerci che cosa il cosiddetto carry back vale a dire di compensare la perdita che ci sarà che speriamo sia più contenuta possibile nel 2020 con gli utili del 2019 in modo tale da venire incontro alle imprese che sono in perdita di dare il credito d'imposta di razionalizzare il sistema e non trovarci di fronte a questo brobrio di norme che sono di assoluta incomprensione IVA ecco noi abbiamo pensato di venire incontro al comparto dei ristoranti al comparto alberghiere al comparto del trasporto abbassando l'aliquota IVA il cosiddetto bonus vacanze è una diciamo una piellusione perché poi in realtà nessuno se ne avvale perché va a discapito del soggetto che rende e eroga il servizio invece il nostro obiettivo è quello di abbassare l'aliquota IVA per trasporti ristorazioni e alberghi un'altra cosa che secondo me va fatta è quello c'è un caos che è stato generato sugli accertamenti del 2020 l'agenzia delle entrate dovrà entro fine anno fare un accertamento per l'annualità 2015 che cosa è stato scritto in questa norma dice guarda che tu emetti l'atto di accertamento ma la notifica la farai nel 2021 ma la potrai fare pure il 2 gennaio del 2021 quindi oltre il danno e la beffa io mi vedo emesso un atto nel 2020 però il 2 gennaio me lo notifico con tutte le conseguenze esecutive noi abbiamo detto no diciamo che si notifica e quindi l'effetto esecutivo dei provvedimenti si sarà a fine 2021 proprio per evitare ai contribuenti di vedersi raggiungere da un avviso d'accertamento in un momento critico come questo e dover pagare delle imposte a questo abbiamo aggiunto che cosa una possibilità di dire ma vediamo facciamo una pace fiscale intelligente non una pace fiscale con sconti o con dono mettiamo a tavolino l'agenzia delle entrate il contribuente attraverso gli strumenti deflattivi oggi esistenti la conciliazione l'accertamento con adesione si arriva alla giusta pretesa tributaria senza applicazione senza interessi e dando una dilazione nel pagamento così facendo otteniamo il risultato di far pagare il dovuto non senza sconti ai contribuenti ma di dargli un po' di ossigeno finanziario in un lasso temporale in cui l'impresa e il professionista può sicuramente fronteggiare il debito versamenti d'imposta chiudo velocemente versamenti d'imposta avete visto che cosa è stato fatto per i versamenti d'imposta c'erano otto nove situazioni differenziate l'una dall'altra hanno slittato al 16 di settembre il pagamento dei versamenti d'imposta ma oggi abbiamo una scadenza drammatica che è quella di giugno a giugno si dovranno pagare entro fine mese i saldi del 2019 si dovranno pagare gli acconti IRPE FIRAP e via dicendo la gente non ce l'ha i soldi e guardate temo una cosa che questa norma il governo sicuramente la farà la adotterà ma la adotterà quando? la adotterà dopo il 30 giugno quindi sarà una beffa terribile per il contribuente onesto che prende con sacrifici con difficoltà va alla cassa e paga e poi magari il 2 luglio gli arriva la notizia e dice guarda potevi non pagare quindi noi abbiamo detto tutti i versamenti di imposte nell'asso temporale dal primo di marzo fino al 31 di dicembre 2020 slittiamoli tutti al 30 di marzo 2021 diciamo vediamo anche qui la possibilità di rateizzare in un momento difficile come questo dobbiamo dare proprio ossigeno finanziario alle imprese ultimissima cosa tributi locali pure il pacchetto tributi locali lascia molto a desiderare che cosa bisogna fare al nostro modo di vedere eliminare la rata inu per i ristoranti nei negozi e le botteghe la la TOSAP l'occupazione solo pubblico TOSAP o COSAP che succede che dicono guarda che non sei esente dal primo di maggio ma i negozi sono stati chiusi i ristoranti sono stati chiusi anche dal marzo a maggio cioè quindi bisogna esentare anche quell'asso temporale e dare a chi ha pagato un rimborso l'ultima cosa il pagamento della Tari la Tari deve essere differito a fine anno come vedete questo è un pacchetto di non tantissime misure che vanno però nel senso di razionalizzare gli interventi così facendo si dà un sostegno alle imprese un sostegno ai lavoratori autonomi si fa capire che c'è una vision poi col Presidente Meloni stavamo ragionando proprio in un momento successivo di presentare un pacchetto veramente concreto di interventi in materia fiscale per fare un cambio di passo perché altrimenti il Paese resterà sempre ancorato a queste misure queste micro misure che non danno l'idea di voler cambiare di fare quel salto che è assolutamente necessario per il nostro sistema economico io avrei terminato ovviamente all'intervento del nostro più autorevole parlamentare oltre che Presidente del partito non aggiungo molto nella descrizione di quelle che sono le proposte che Fratelli Italia ha elaborato nel suo complesso lei ha rappresentato il Presidente giusta sintesi del lavoro fatto dai parlamentari dai nostri dipartimenti perché siamo un partito in qualche modo all'antica in questo passiamo il nostro tempo ad ascoltare la gente a rappresentare all'interno del Parlamento istanze del mondo reale e abbiamo scelto anche in questa occasione di farlo con il coinvolgimento dei due rami del Parlamento con i colleghi del Senato e della Camera ma anche con tutti i mondi le associazioni che abbiamo ascoltato in questi mesi per capire i bisogni reali delle persone il Parlamento non può restare lontano da queste e deve provare a rappresentarle così uno dei più autorevoli i nostri rappresentanti nei dipartimenti è proprio l'onorevole Professor Leo che ha qui ben puntualizzato quale sono le mancanze ma soprattutto quali sono le proposte che noi vorremmo e ospichiamo vengano inserite in questo decreto aprile che è diventato maggio che ha cambiato nome per vergogna che oggi è rilancio ma che rischia di dover essere poi seguito da un decreto resurrezione perché troveremo tante imprese morte a causa dell'incapacità di questo governo di rappresentare davvero delle soluzioni efficaci per affrontare una emergenza del resto la decretazione di urgenza la nostra Costituzione la provvede in quest'ottica la decretazione di urgenza salta il Parlamento in una Repubblica parlamentare per un breve periodo di tempo perché si possa essere efficaci tant'è vero che il decreto è immediatamente esecutivo il decreto pone i suoi effetti immediatamente all'interno della società e così è anche per questo poi però si dà la possibilità al Parlamento di correggerlo di verificarne gli effetti ma la razio che pose i padri costituenti nel definire il decreto doveva proprio evitare quello che è contenuto in questo atto che si abbia un decreto omnibus che parla di tutto che parla soprattutto di cose che con l'emergenza non c'entrano niente molte sono state citate cosa c'entra il consiglio di amministrazione dell'Enit la conquista di poltrone la definizione di tante poltrone che vengono assegnate con consulenze con un decreto che deve affrontare l'emergenza quotidiana degli italiani di quelli che il professor Tritico erroneamente posto alla presidenza dell'Inps definisce spesso pigri ed opportunisti sono quelli invece che non possono essere pigri perché un imprenditore se non si alza la mattina e non va a lavorare muore di fame mentre il professor Tritico prende centinaia di migliaia di euro per dire queste amenità dalla mattina alla sera con un soggetto che dirige nel peggiore dei modi possibili non aggiungo altro nel merito di quale sarà il metodo invece il nostro presidente della commissione bilancio Trancassini ha ribadito quella che è per Fratelli d'Italia il primo ragionamento che va effettuato nell'affrontare una trattativa se vogliamo su questo decreto il primo ragionamento è la trasparenza noi abbiamo avuto troppe delusioni da un governo che ci ha preso in giro in ogni modo dicendoci che avrebbe voluto il confronto e invece prima respingendo le nostre poste poi saccheggiandole a destra e a manca e magari facendolo nella maniera peggiore e allora noi abbiamo chiesto lo streaming lo abbiamo chiesto al ministro dei Cinque Stelle di Incaga e quello dei rapporti con il Parlamento e abbiamo avuto da parte del Movimento Cinque Stelle delle risposte imbarazzanti quali quelle facciamo le cose serie lo streaming non è una cosa seria quando loro pretendevano che ogni volta che c'era un confronto con loro avvenisse davanti agli occhi di cittadini ecco noi vorremmo ancora questo vorremmo che se ci sono stanze parallele al Parlamento noi crediamo lo ricordava il senatore Fazzolari in più occasioni che il Parlamento sia il luogo del dibattito tra le forze politiche dove ci sono gli eletti dal popolo che possono discutere dibattere proporre e avere anche gli strumenti che la Costituzione prevede per incidere sul quadro normativo e anche sulle situazioni di emergenza come queste e allora lo streaming era uno strumento che il Movimento Cinque Stelle sta rifiutando in maniera pervicace con le scuse più atroci perché? perché sono imbarazzati perché raccontano agli italiani una cosa e nelle segrete stanze ne vogliono fare altre noi in queste ore lo dico per anche spiegarlo colpo questa occasione stiamo facendo ostruzionismo in aula perché anche lì anche sulla data del voto sono riusciti a tentare di mettersi d'accordo in maggioranza cercando di imporla ai cittadini italiani e ovviamente alle opposizioni lo dico perché non esulano anche queste cose dal quadro economico noi stiamo contestando la data del voto perché si vuole votare il 20 settembre imponendo una campagna elettorale ad agosto che significa mettere un'altra mina sul settore turistico che è uno dei settori più in difficoltà di questa nazione perché è evidente a tutti che migliaia di persone non potranno andare in vacanza tra quelli che vogliono partecipare liberamente alle elezioni dagli impiegati comunali fino ai candidati alle loro famiglie di tutti i partiti e che le elezioni così saranno viziate da questo e un settore strategico come il turismo ne verrà danneggiato abbiamo chiesto oltre allo streaming di togliere le marchette di togliere tutti gli interventi che non c'entrano niente con l'emergenza prima di affrontare nel merito quelle soluzioni che noi proponiamo per cercare di capire se c'è convergenza su alcune di queste al momento da parte del governo c'è solo la richiesta di inserire marchette anche noi da questo punto di vista Fratelli Italia ha risposto negativamente si parte togliendo quello che non c'entra si arriva a entrare nel merito e siamo pronti a discutere di tutto perché dal primo giorno attraverso il presidente Meloni e tutte le nostre rappresentanze in qualsiasi tavolo di confronto con Conte e soprattutto all'interno delle aule parlamentari abbiamo ribadito la disponibilità di Fratelli Italia a trattare nel merito per gli italiani e non per accontentare lobby, poteri e coloro con i quali evidentemente questa maggioranza è abituata a ragionare quindi vedrete che l'impegno di Fratelli Italia sarà come al solito costante invito anche attraverso questo strumento a verificare come il nostro gruppo parlamentare in questo caso la Camera ma vale per il Senato nonostante abbia un numero limitatissimo di parlamentari che non corrispondono certamente agli ultimi sondaggi che ci vedono in situazioni molto migliori noi arriviamo a malapena 35 parlamentari e produciamo più degli altri parlamentari messi insieme in queste ore basterà guardare le statistiche Fratelli Italia sta dimostrando di essere il battivo più attivo e quindi più utile ai cittadini lanciamo un'altra volta la sfida a tutti confrontiamoci su questo decreto rilancio facciamolo in maniera trasparente ed aperta e poi i cittadini avranno l'occasione di valutare speriamo già nel prossimo autunno con il voto anticipato se è utile mantenere al governo questa a cozzagli i soggetti o magari avere un governo autorevole perché voluto dal popolo che possa davvero affrontare quella che sarà l'emergenza economica più importante della storia italiana dal dopoguerra va bene grazie mille noi siamo stati un po' lunghi però obiettivamente insomma come avete visto dai contenuti il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro estremamente serio lungo complesso è giusto che ne diamo conto chiaramente poi insomma vi aggiorneremo su come va il dibattito parlamentare man mano che si va avanti non so se abbiate delle domande io aggiungo solamente il dato che alla fine sono circa mille gli emendamenti depositati da Fratelli d'Italia al decreto rilancio possono sembrare molti ma in realtà non lo sono se considerate che la maggioranza ne ha presentati molti di più significa semplicemente che il decreto è un decreto inadeguato che tutti quanti pensano di dover migliorare sensibilmente che quindi è distante anni luce dai bisogni che oggi ha la nazione noi abbiamo fatto e facciamo come sempre la nostra parte per amore di questa nazione speriamo che qualcuno abbia la disponibilità ad ascoltare le nostre proposte se avete domande sono qui altrimenti buona giornata a tutti grazie